Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video, bentornati sul canale, o meglio dire bentornato a me. Questo sarà un video dove spiegherò solo alcune cose. Ho intenzione di riaprire il canale, riportare video, riportare gameplay. L'ho tenuto fermo anche direi per troppo tempo, due anni e mezzo direi che sono davvero tanti. Il problema è che non ho più a disposizione il computer, non ho più a disposizione neanche la fibra, quindi saranno gameplay principalmente su telefono. Mi toccherà giocare, editare, tutto col telefono. Ce la faccio, in qualche maniera ce la faccio, anche perché non voglio più lasciare il canale morto. Il canale subirà sicuramente una pulizia, magari toglierò delle serie incomplete, video dove magari ho fatto un video per un gioco, lo toglierò. Quindi una pulizia generale al canale penso che sia proprio il caso di darla. Dal momento che i gameplay si svolgeranno solo su telefono, ho già qualche gioco in mente e scaricato da poter portare, qualche gameplay carino da fare, magari qualche serie, la ricominciamo, la iniziamo. Se avete dei giochi in particolare che vorreste vedere, ditevelo. Io mi attrezzo in qualche modo da scaricarle e tutto, e sicuramente li porterò. Ho già ordinato diverse cosucce da Amazon, giusto per riuscire a semplificarmi il più possibile. Il fatto che porterò dei gameplay da telefono, quindi cose per il gaming. Ho già scaricato diverse applicazioni per potermi aiutare nell'editing, nel gestire il video, l'audio e tutto. Non saranno sicuramente una qualità al 100%, magari come prima sul computer, però cercherò di fare il meglio possibile per poter far ripetere il canale. Non dipenderà solo da me, questo dipenderà anche da voi, anzi, soprattutto da voi. Io ringrazio tutti quelli che sono rimasti, che mi stanno ancora aspettando, e che ancora commentate, perché io ricevo ancora commenti sotto i miei video, dove sei finito, perché non riporti questo gioco, perché non riporti quello, sono due anni e mezzo che non mandi più video, perché non torni. Mi ha fatto davvero molto piacere, e diciamo che è anche una delle cose che mi ha stronato a ricominciare, a riprendere questo canale, questa strada. A me è sempre piaciuto comunque fare YouTube, intrattenervi, giocare, mi piace davvero tanto giocare. In questi due anni e mezzo sono successe diverse cose, magari farò un video a parte dove vi racconterò tutto con calma, magari anche durante i gameplay, qualche chiacchiera se può fare. Se riesco ad organizzarmi bene, potrebbe anche esserci qualche live. Adesso devo, non è ancora niente di sicuro, ma diciamo che è in cantiere anche questa via, le live. Bene, diciamo che il video è abbastanza corto e circonciso, è giusto per spiegarvi un po', per farvi vedere che il canale ripartirà. Ci tengo ancora una volta a ringraziare tutti quelli che sono ancora qui, che sono rimasti. Mi raccomando, supportatemi, aiutatemi col canale. Lasciate un bel like se vi fa piacere che io sia tornato. Ricordo di lasciarmi qualche commentino su vari gameplay che volete vedere, se siete contenti che torno sul canale. Quindi ragazzi, preparatevi, mi preparo anch'io, anzi, io sono già pronto, devo semplicemente iniziare a registrare, editare e caricare. Mi raccomando, lasciate un bel pollicione, supportatemi sempre, accetto comunque sempre qualsiasi tipo di consiglio voi vogliate darmi. Diciamo che questo è un video fatto un po' alla forfè, diciamola così, adesso poi ho anche l'illuminazione già pronta, adesso sto facendo un video proprio veloce veloce, non c'è luce, non c'è niente. un video al volo giusto per avvisarvi che il canale sta per ripartire. Grazie ragazzi, ciao!